Non era in programma che questa sera dovevo portare questo messaggio, ma amo dire una frase, ci sono cose che Dio fa all'improvviso e le cose che Dio fa all'improvviso sono quelle che noi non ci aspettiamo ma sono quelle di lui stabilite. Quanti sanno che siamo in tempi difficili? C'è un buon numero che alza le mani? Quanti sanno che in questi tempi difficili Dio alza giusti? Non per i nostri meriti, non per le nostre abilità, non per le nostre qualità, ma per la grazia e i talenti divini e soprannaturali che egli innesta nelle viscere di un uomo e una donna che decidono di fare sul serio con Dio. perché Dio non si compiace del tuo andare e venire dalla chiesa evangelica, Dio non si compiace del tuo andare e venire dalla chiesa cattolica, tu puoi praticare tutte le religioni e anche l'evangelico è un religioso, il rinato di nuovo, il discepolo è quello che fa la differenza. E c'è un verso in particolare che Dio possa applicare abbondantemente sulle nostre vite che ne possiamo trovare nel libro del profeta Gioela capitolo 2. La Bibbia dice che l'Eterno disse se l'Eterno ha provato una grande gelosia e si è mosso in suo favore, sai che tu puoi fare in gelosia di Dio. Dio, quando ha prescritto a Mosè dei comandamenti, cosa ha detto? Io sono un Dio geloso, perché Dio ci ama di un amore eterno, Dio ci ama in un modo pazzesco. Perché? Perché nel libro del Deuteronomio cosa disse Dio? Voi siete il mio tesoro particolare. Io ho riposto in voi il mio affetto. Quindi se Dio ci ha eletti, come dice la lettera di Pietro, perché siamo un regale, è regale sacerdozio, siamo una stirpe lette santa, quindi se siamo sacerdoti e sacerdotissi abbiamo delle vesti e qui entriamo nel messaggio. Come stanno le tue vesti questa sera, Chiesa? Come stanno le tue vesti? Aprite con me Esodo, capitolo numero 28. Poi fa accostare a te Aronne, tuo fratello, i suoi figli, con lui, dal mezzo dei figli di Israele, perché serva a me come sacerdote, Aronne, Nadab, Abiù, Eliasar e Itamar, figli di Aronne, e farei ad Aronne tuo fratello delle vesti sacre, per conferirgli onore e grazia. Parlerei a tutte le persone abili, che ho ripieno di spirito e di sapienza, ed esse faranno le vesti di Aronne, per consacrarlo perché serva a me come sacerdote. E queste sono le vesti che faranno un pettorale, un efod, un mantello, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque delle vesti sacre per Aronne tuo fratello e per i suoi figli, affinché serva a me come sacerdote. Essi useranno oro e filo violaceo, porporino, scarlatto e lino fino. Fin qui questo primo punto. Dio parla a Mosè e la Bibbia dice che Dio parlava a Mosè come un amico con il proprio amico, cioè faccia a faccia. E mentre Mosè parlava con il suo amico Yahweh, Yahweh parlava con il suo amico Mosè. E Dio dice a Mosè, farei questo. Quando? Quando precedentemente Dio ordinerà ai capi tribù di Israele, circa 600.000 uomini, di entrare nel tabernacolo, di mettere delle verghe davanti al propiziatorio, affinché la verga che fioriva veniva eletta come sacerdote. Al mattino seguente ognuno andò a vedere la propria verga. E solo sulla verga di Aronne era il mese di Ab, secondo il calendario ebraico, dove maturavano le olive e le mandorle. Ecco perché sulla verga fiorirono fiori e mandorle. Era il periodo della maturazione dell'olio sacerdotale. Solo la verga di Aronne fiorì. Dio l'ha scelto e sceglie i suoi figli. E dice, tu farai. E preparerei delle vesti sacre, affinché lui possa essere separato, appartato. Cioè c'aveva un diadema sulla propria fronte. Con una piastra d'ora, con una scritta. Santità all'eterno. Chiunque vedeva Aronne, chiunque vedeva i figli di Aronne, riconoscevano che avevano un ufficio sacerdotale. E sai, quando io e te siamo marchiati, quando io e te siamo consacrati, quando io e te facciamo una vita santa e viviamo seriamente con l'Onnipotente, le persone lo vedono. E perché una tunica preparata è lavorata a maglia? Santificarci ci costa ogni istante della nostra vita. E noi in ogni momento dobbiamo cuscire le nostre vesti, Chiesa. Noi in ogni momento dobbiamo ricordare, sì, che Dio ci ha donato delle vesti, che attraverso il sangue di Cristo che ha squarciato quel velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo e abbiamo accesso, abbiamo ingresso liberamente per quel sangue versato, non ci deve far dimenticare che è costato il sangue. E le vesti che abbiamo ricevuto perché Gesù Cristo ha ribaltato ogni cosa, ne abbiamo una grande responsabilità. non macchiarle. E la domanda è mi incuriosiva, perché vesti di lino fino? Ogni indumento era di lino finissimo, dice la Bibbia. Troviamo il colore dell'oro perché era secondo la tradizione del soprannaturale del cielo, che era la regalità di Dio, il violaceo che era il sacerdozio, il porporino che rappresentava il sangue, la cintura di lino che rappresentava cingiti, lombi e predica il Vangelo. Ma perché tutto di lino? Gli indumenti di lino non fanno sudare. E qui c'è un aspetto profetico. Perché quando Dio creò l'uomo, lo mise nel giardino dell'Eden, l'uomo era perfetto in bellezza, dice la Bibbia. viveva nella gloria e Dio scendeva con l'uomo e camminava insieme a Lui. Ma quando Adamo ha rotto i principi, quando Adamo ha rotto i valori, cosa disse Dio ad Adamo? Mangerai con il sudore della tua fronte il raccolto della terra. Ma c'è stato un uomo che ha sudato sangue per noi. Gesù, il secondo Adamo, nel Getsemani, nel luogo del frantoio, cosa iniziò a sudare? La Bibbia dice che grondolava sangue. Era il sommo sacerdote che stravendava, dicendo, io suderò una volta e per sempre. e attraverso questo sudore ristabilirò delle vesti sacre per sacerdoti e sacerdotesse. In altri termini, chiesa, tu stai sudando e Dio non ha stabilito questo per noi. ci dobbiamo rivestire di vesti di lino finissima affinché noi possiamo di nuovo avere accesso come Dio ha stabilito. Perché Dio disse ad Aronne ti presentereai a me in un tempo specifico, in un giorno specifico e in un momento specifico. Sai perché? Perché quando il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi, nel giorno del Yom Kippur, tutto era buio, non c'erano luci. Nel luogo santissimo c'era il candelabro che illuminava la tenda, ma nel luogo santissimo non c'era niente. Era la numola della gloria che illuminava ogni cosa. E quando arriva la luce che cosa facciamo noi? Siamo scoperti. Perché quando la luce arriva e illumina e se noi non siamo santi quando la luce arriva vede la nostra decomposizione spirituale. E Dio disse ti presenterei a me con delle vesti di lino in altri termini, non più con vesti di peccato, non più con vesti di trasgressione, ma con vesti santi, immacolate e pure affinché Gli potessi ristabilire di nuovo il dialogo. Libro dei numeri, capitolo numero 11. Or il popolo si lamentò e questo dispiacque agli orecchi dell'Eterno. E come l'Eterno li udì, la sua ira si accese e il fuoco dell'Eterno divampò fra di loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè, Mosè pregò l'Eterno e il fuoco si spense. Così quel luogo fu chiamato Taberà perché il fuoco dell'Eterno si era acceso fra di loro. Amo a Raffaele, ma perché? Vuoi dire che se noi casomai non stiamo vivendo, non stiamo macchiando quelle vesti, l'ira di Dio si può accendere e noi possiamo essere bruciati? Sì! Perché la Bibbia dice che l'Eterno è anche un fuoco consumante. La Bibbia dice che la sua giustizia non supera la sua grazia, la sua grazia non supera la sua giustizia. ma cosa stava facendo il popolo? Era stato liberato, era stato sanato, era stato guarito, Dio aveva provveduto, Dio aveva stabilito ogni cosa, gli stava bene dicendo il popolo si lamentava. E voglio denunciare quello che lo Spirito Santo mi fa sentire. Ci sono persone che si stanno lamentando, ci sono persone che vivono nello spirito di Piton, che vivono nel mormorio e la Bibbia dice che Dio non dorme non sonnecchia, lo potevano nascondere agli occhi di Mosè, lo potevano nascondere dinanzi ad Aronne, lo potevano nascondere a Giosuè, ma non a Dio. E quante volte la Chiesa suda, suda perché dimentica le vesti che Dio ha preparato e si veste di vesti sudici come dice il libro del profeta Zaccaria quando il sacerdote voleva parlare ma l'Eterno disse io non posso avere comunione e dialogo con te. Giosuè è figlio di Nun, cambia le tue vesti. C'è un verso nel libro del profeta Ezechiele, capitolo 26 se non mi sbaglio, Dio chiama Ezechiele, lo pone come sentinella per la casa di Israele, c'erano sacerdoti, c'erano occulti che appartenevano a Yahweh, c'era la lode, c'era l'adorazione, ma Dio suscita Ezechiele e nel capitolo 8 che cosa dice? Figlio d'uomo viene, ora guarda, Dio con il suo indice inizia a forare le mura del tempio di Gerusalemme e la Bibbia dice che c'erano 70 anziani, 70 sacerdoti e lui iniziò a vedere ogni specie di rettile, scorpioni che camminavano sulle cose sacre e sante di Dio e Ezechiele e la Bibbia dice che ebbe paura di sé che cosa sta succedendo, guarda quello che fanno nella loro intimità. Sai una cosa? Ci sono cose che Dio rivelerà solo a te, ci sono visioni che Dio darà solo a te, ci sono cose che discendono dal cielo che Dio innesterà nel tuo spirito e nessuno ti potrà comprendere, nessuno ti capirà. Ezechiele la Bibbia dice che era come un diamante per quel popolo che era ostinato, Dio disse se ti avessi mandato ad un popolo dal linguaggio oscuro, un popolo che non mi conosce, un popolo che non sa chi sono io, sicuramente ti avrebbero dato ascolto. Ma perché ti mando i figli di Israele? E sapete chi sono i figli di Israele? È la Chiesa che suda, è la Chiesa che è orgogliosa, è la Chiesa che è religiosa, è la Chiesa che vive nel compromesso, è la Chiesa che vive nell'apparenza e non nella sostanza. Perché ti mando a loro, Ezechiele? Loro hanno il cuore ostinato, hanno lo spirito deviato e si sono allontanati dai miei precetti. C'erano donne che erano mogli di sacerdoti e Dio ancora rivelava al profeta guarda cosa stanno facendo. Erano al Tempio, uscivano dal Tempio, si prostravano davanti a Tammuz, una divinità della Fenicia affinché potesse portare frutto. Basta così poco. Basta così poco che quando siamo vulnerabili mentre offriamo incenso e odore soave a Dio mettiamo il piede fuori da quella porta e offriamo incenso a coloro che non appartiene il culto. Ma io non disonoro ma io mica mi prosto davanti alle statue a volte c'è un'attitudine di cuore. Ci sono pensieri che ci sono nella mente, ci sono cammini che Dio non ha ordinato di fare, di entrare, ci sono porte che Dio ti ha detto di non barcare, ci sono strade che Dio ti ha detto di non attraversare e noi le attraversiamo. Ci sono conseguenze. Sapeste cosa dice il libro dell'Apocalisse? Che quando tutto, quando tutto, tutto, tutto finirà l'ira di Dio sarà così tremenda. Puoi immaginare per un istante che i cieli si arrotoleranno come una pergamena e i potenti della terra grideranno ai monti cadeteci addosso. Dio accartoccerà il cielo con le sue mani e la Bibbia dice chi si santifichi continua a santificarsi ma chi è in perdizione continua ad andare in perdizione. Come stanno le tue vesti questa sera? ci sono lamentele, ci sono dispute, ci sono contese, c'è ipocrisia, c'è calunnia, l'eterno brucerà la chiesa. Ah, meno male che ci sono di intercessori. Solo un'estremità del campo fu bruciata. Come si iniziò a pregare e quando siamo intercessori reali e regali sai che Dio può spegnere la sua ira. Ci sono genitori che intercedono per i figli e i figli non muoiono. Ci sono figli che intercedono per i genitori e i genitori non soffrono divorzio, malattie, pestilenze. Ci sono uomini che pregano per paesi e quei paesi vengono cambiati dall'amore, dalla misericordia, dalla compassione, dalla grazia, dalla mano benefica di Dio. Ci sono persone che pregano, intercedono, digiunano per governi e Dio ribalta le cose e a volte solo una estremità, solo una parte viene distrutta ma per amore di quelli che hanno un cuore secondo il suo cuore e quelli che come Mosè dissero uccidi me. Tu immagini un uomo che dice a Dio pentiti di quello che tu stai facendo Mosè ha avuto il coraggio perché Dio disse a Mosè togliti da mezzo Mosè, io distruggerò a questo popolo, le loro vesti sono sporche, sono inique. Mosè disse ti prego, ti prego mio Dio, ti prego Yahweh, pentiti, sai che io e te possiamo far cambiare pensiero a Dio? E dove è finita questa attitudine? Sai perché tante volte Dio non cambia pensiero? Perché le nostre vesti sono inique, perché le nostre vesti sono macchiate, cantiamo un canto indossato già le mie vesti bianche ma abbiamo una responsabilità di mantenerle bianche, mantenerle pure, mantenerle come Dio le ha stabilite. Levitico capitolo 10 leggeremo i tre versetti. Poi Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno il proprio turibolo, li misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenze e offrirono davanti all'Eterno un fuoco profano che egli non aveva loro comandato. Allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò e morirono davanti all'Eterno. Perciò Mosè disse ad Aronne questo è ciò di cui l'Eterno parlò dicendo io sarò santificato da coloro che si avvicinano a me e sarò glorificato davanti a tutto il popolo e Aronne d'acqua chi era Nadab e Abiu sacerdote ma presero il proprio turibolo qui c'è un altro aspetto tante volte noi abbiamo il nostro orecchio lontano dalla voce di Dio perché loro offrirono fuoco e incenso che l'Eterno non aveva stabilito non aveva comandato non aveva dichiarato di fare e quante volte noi siamo sordi ed è il tempo di sturare le orecchie perché c'è una voce profetica che viene dal cielo e sta chiamando i suoi il residuo il rimanente andarono davanti all'Eterno offrirono del fuoco ma uscì un fuoco che divampò e bruciò e abbiò la domanda è ma il fuoco non è tutto uguale qual è la differenza il fuoco naturale che sale dalla terra contamina e iniqua il fuoco che discende dal cielo santifica e purifica e quante volte alziamo fuoco fuoco che non serve a Dio quante volte siamo come quei sacerdoti nel libro di Malachia ma in che cosa ti stiamo disonorando siamo anche politicamente corretti noi noi non abbiamo peccato guarda signore noi abbiamo un'offerta facciamo la decima veniamo in chiesa andiamo il mercoledì andiamo il lunedì il giovedì il venerdì la domenica in che cosa ti stiamo disonorando ma fai un'introspezione guarda il tuo cuore esamina e vedi in quante cose lo stai disonorando ma che ti serve andare a venire in chiesa e non cambiare la tua vita a che serve andare a venire in chiesa e non realizzare la proclamazione della parola che ribalta le condizioni a che serve andare a venire in chiesa e non gustare dell'unzione dell'olio dei santi che discende per spezzare legami per rompere le catene per rompere le cose demoniache per abbattere gli attacchi satanici affinché la chiesa possa vivere quello che è scritto in marco capitolo 16 versetto 8 nel mio nome vedranno e faranno cose maggiori di me dov'è questa chiesa? dove sono le vesti che gli ha stabilito? dove sono le vesti? quali sono le vesti che abbiamo addosso chiesa? io sento nel mio spirito che ci sono persone che hanno seppellito sogni hanno seppellito emozioni hanno seppellito desideri o questa sera recupera i tuoi sogni è tempo di grazia la Bibbia dice che nel tempo di grazia i dici esaudirà ma il tempo della grazia è una scadenza e questo tempo sarà abbreviato per amore dice la Bibbia perché quando il numero degli eletti sarà compiuto allora dal cielo si potrà udire un suono di scioffar ed egli ritornerà come leone come giudice delle nazioni per giudicare i popoli con una verga di ferro e nessuno sarà immune nessuno sarà immune alziamoci all'impiede chiudete i vostri occhi alzate le vostre mani chiudete i vostri occhi ci sono persone che hanno vesti macchiate ci sono persone che devono cambiare le vesti questa sera tu potrai resistere a un pastore a un evangelista a un insegnante a un profeta chiudi tu ma tu non potrai mai vincere Dio non potrai mai resistere Dio questa sera io apro un appello ti lancio una sfida e ti chiamo qui davanti perché l'Eterno vuole ristabilire le sue vesti sante bianche pure immacolate ma sta a te la scelta sai i sogni di Giuseppe ebbero una fine lui non io credo che nel suo cuore non iniziò più a credere al sogno che i covoni che le stelle del cielo si sarebbero sottomesse ma lui iniziò a recuperare quel sogno lui iniziò a recuperare quel sogno lui iniziò a mettersi di nuovo le vesti che Dio aveva stabilito lì comprese che la veste che Giacobbe aveva donato non era la veste che Dio aveva stabilito questa sera quanti accetteranno questa sfida allora vieni qui davanti mettiti in discussione dici signore vesti regali non meritiamo ma tu attraverso il tuo sangue quel sangue che non sporca ma lava purifica in bianca purifica la mia veste affinché io possa avere accesso di nuovo al luogo santissimo adoriamo 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 rimaniamo nell'adorazione lo spirito santo è qui sei un collaboratore di Dio questa sera chiese è finito il tempo della religione quello è un sedativo lo dico sempre è una droga è un'inezione che ti paralizza nella mente nel cuore blocca lo spirito questo non è Dio questo è un demone adoriamo alziamo le nostre mani alziamo le nostre mani lo spirito santo è qui ogni spirito di torpore fuori ogni spirito di pesantezza fuori ogni iniquità fuori